Ciao amici da Frank Bianconero, preview o prima del match, del grande match di domani sera tra Juve e Lazio, è inutile girarci intorno, bisogna dire che in questa situazione, che ammettendo che critico, e ho criticato sia la scelta di Pirlo e come si è comportato in alcuni momenti della stagione, ma questa volta non possiamo fare a meno che ci si mette anche la non diciamo fortuna, perché a volte ci vuole anche quella per delineare una stagione, detto ciò domani è una grande partita, detto ciò ci vuole la Juve che noi conosciamo, che a volte nei momenti di difficoltà o dove pensiamo che tutto non possa andare bene, all'improvviso esce l'orgoglio di ciò che noi conosciamo da sempre. Vediamo la partita, la partita domani non si sa se recupera Borucci, Delic non si è allenato, Fagioli ha avuto un problema, Bentancur, e qua faccio una premessa, non mi piace come giocatore, ma trovo sempre assurdo la gente che per questione di salute dice contento che non ci sia, questa la trovo una cosa da rabbrividire, da rabbrividire le carni, detto ciò siamo contati, c'è una difesa tutta da reinventarsi, magari Alexandro Centrale, Bernardeschi diciamo basso a sinistra, i centrocampisti sono solo quelli, detto ciò non possiamo fare altrimenti, dobbiamo cercare di vincere questa partita, non partirà Morata dall'inizio perché come ha detto lo stesso Pirlo ha più di mezz'ora ma non ha la partita intera, e questo ovviamente lo possono sapere loro dello staff, io sono dell'idea che quando il giocatore non sta bene li faccio dare subito il mille per mille dall'inizio perché Morata può essere sempre un fattore, può sempre tenere la difesa delle avversari in allerta, ma detto ciò se così è la decisione giocherà sempre Kulusevski, Chiesa nel quarto di centrocampo, e ovviamente Ronaldo che sta facendo straordinari, io sarei stato propenso magari alla partita con lo Spezza a non farlo giocare ma essendo contati così non può fare, però c'è da dargli atto che oltre a quello che tutti pensiamo di Chiesa nel Ronaldo c'è da dire anche che è un professionista esemplare, è uno dei pochi che grattandomi a pochissimi fortuni o fastidi sta sempre abbastanza in forma, non sempre prestazioni brillanti ma è sempre sul pezzo, questo bisogna dirlo, la squadra nella Lazio ha un centrocampo forte, verticalizza subito, non bisogna dare spazio per le ripartenze, manca Lazari che comunque può essere o poteva essere una spina nel fianco, ma giocherà Marucic che non è tanto più lento, anzi a volte può essere anche più potente a livello fisico, è più vicino a Bernardeschi, ecco dico fisicamente, non sto parlando della qualità dei giocatori, ma abbiamo una partita scomodissima perché dove sta anche il non avere troppa fortuna, che in un momento di emergenza totale tu non vai a incontrare una squadra sulla carta più apportabile, vai a incontrare una grande squadra al ridosso della Champions League, perciò stiamo parlando di una partita difficile da vincere, ma dovesse vincere questa partita intanto mettiamo a posto più o meno il discorso delle quattro in Champions, perché non dobbiamo dimenticare, il nostro obiettivo è arrivare lassù e avere l'obiettivo, la forza e la voglia di combattersi lo scudetto con l'Inter fino alla fine, ma bisogna guardarsi anche dietro visto che la classifica è abbastanza corta. Detto ciò, noi dobbiamo stare sempre tutti uniti, la critica va fatta dopo, prima discutiamo come al solito, ma il sangue deve scorrere, deve essere sempre quello bianco-nero, sperando che domani nel bene, nel male, una partita brutta, bella, novantesimo, novantatresimo, si possa venire a capo di una partita oggettivamente difficile a prescindere. In questo momento di emergenza lui ancora di più. L'unica cosa che io non condivido, di quello che ha detto il mister, e ognuno poi ovviamente ha le sue idee, che atteggiamento e grinta ci vogliono anche nel campo. Lui non aveva bisogno, sì, però aveva bisogno dei Gattuso vicino a lui, aveva bisogno dei Gattuso e dei Rossi quando era in Nazionale, aveva bisogno dei Vidal e Pogba quando era la Juve, perché comunque atteggiamento, grinta e cattiveria agonistica fa sempre bene al calcio. Lui sicuramente non aveva bisogno, perché lui non arrivavano spesso nemmeno a pressarlo, perché il suo pensiero calcistico nel campo era oltre ogni logica, questo bisogna dirlo. Ma io credo che in una squadra dove non c'ha forze tecniche come quelle che aveva lui da giocatore, bisogna mettere altre caratteristiche in campo. Detto ciò, fino alla fine Forza Juve, partita difficile, ma con la testa dobbiamo cercare di portarla a casa a tutti i costi, perché io sono sempre convinto che chi deve vincere lo scudetto è perché deve lottarselo con noi e non lasciare il campo abbastanza libero per vincere gli altri. Ciao da Frank Bianconero, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ditemi nei commenti cosa ne pensate. Buona serata!